Questa è la prima cucciolata, hanno 65 giorni, 4 maschi e 3 femmine, tutti bianconeri come vedete, una cucciolata che io ho programmato, il papà è Ulak, la mamma è la biba e l'abbiamo. Quindi due setter di grande tradizione. Ulak penso che lo conoscono in tanti, anche nel mondo delle prove, oltre che nella caccia. La mamma è una cagna che usiamo noi a caccia, beccaccia, è una cagna navigata e ho studiato questa cucciolata. Sono nati da 65 giorni? 65 giorni, sì. Li vedo già belli vispi, pronti, carichi. Mi sembra che stia venendo anche belli strutturati, perché arriviamo quasi già a 6 kg ogni cucciolo, dunque mi fa piacere che l'accoppiamento è riuscito, i cuccioli sono belli sani, adesso cominceranno anche ad andare dai relativi proprietari, a parte il soggetto che terrò per me. Hai già scelto il tuo soggetto? Sì, io tengo una femminuccia, perché le ultime cucciolate sto selezionando solo femmine e allora l'ho già docchiata.